Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente non lo è stata. Il cantiere per la realizzazione della passerella pedonale a Ponticelli, frazione del comune di Santa Maria Monte, nel Pisano, ieri sera alle 19 era già chiuso quando la struttura si è letteralmente collassata. Un'opera la cui realizzazione è iniziata nel luglio scorso. Ad ottobre, dopo i primi lavori, era stata portata sul posto la struttura, un unico blocco di acciaio, consolidata poi recentemente con delle gettate in cemento. Qualcosa però è andato storto. La passerella in acciaio si è piegata in due, andando ad adagiarsi sul canale sottostante, conosciuto come collettore. Sono stati alcuni passanti ed abitanti della zona a dare l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto carabinieri e tecnici del comune, insieme al sindaco Ilaria Parrella. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Ci sono da appurare le responsabilità, ma soprattutto c'è da capire che cosa è successo. Che cosa ha portato una nuovissima struttura in acciaio a collassarsi e a piegarsi letteralmente in due? I lavori, per un importo di 250.000 euro, erano quasi arrivati a conclusione. L'area avrebbe visto a breve la realizzazione anche di un altro attraversamento pedonale, i cui lavori però non sono ancora partiti. La circolazione lungo la via Francesca non è stata interrotta. Solo nella serata di ieri ha subito dei rallentamenti.